La sera stessa ho guardato la prima parte del film documentario e già durante la musica iniziale ho sentito un formicolio in tutto il corpo. Mi è venuto molto caldo e ho pensato «Oh, adesso sta agendo dentro di te». Il 5 marzo 2021 ho contratto il Covid. In quel periodo non avevo contatti con nessuno già da sei settimane. Veramente nessuno. E avevo già da allora molta paura. E quando ho scoperto che aveva colpito anche me, la paura è aumentata. Non sapevo cosa stesse accadendo al mio corpo e nessuno riusciva a spiegarmelo. Il mio corpo era come impazzito. Sì, così sono rimasta a casa da sola per due settimane. Con i miei pensieri, con la mia paura. E non ne potevo più. Quando sono potuta uscire di nuovo sono andata subito dalla mia famiglia in cerca di conforto e vicinanza e soprattutto di abbracci. Ma i disturbi non miglioravano. Anzi, avevo il fiato corto, dolori costanti al petto e vertigini. Ero senza energia e senza forza. Sempre stanca, spussata. E scoppiavo a piangere al minimo stress psicologico o fisico. A volte subito, a volte uno o due giorni dopo. Ho cercato aiuto ovunque. Ho provato tutto il possibile attraverso la medicina tradizionale cinese. Ho consultato degli specialisti. Un opneumologo, un cardiologo. Ma nessuno poteva aiutarmi. L'opneumologo mi ha quindi messo in malattia. E da quel momento in poi trascorrevo circa l'ottanta per cento delle mie giornate sdraiata a riposare. Evitando qualsiasi stimolo perché troppa luce e troppi rumori erano eccessivi per me. Tutto era eccessivo per me. Sì, è andata avanti così per diversi mesi. Non ne potevo più. La sera a letto per la prima volta nella mia vita ho parlato a voce alta con Dio e ho detto ti prego, caro Dio se esisti ti prego aiutami. Non ne posso più. Circa una settimana dopo una collega è venuta a farmi visita e così l'ho parlato della mia sofferenza e di come mi sentivo. Allora lei mi ha parlato di Bruno Gröning non esiste l'inguaribile Dio è il medico più grande mi ha parlato del film documentario su YouTube del circolo degli amici e la sera stessa ho guardato la prima parte del film documentario e già durante la musica iniziale ho sentito un formicolio in tutto il corpo e mi è venuto molto caldo e ho pensato oh, adesso sta agendo dentro di te nei giorni seguenti ho guardato la seconda e la terza parte e poi ho tartassato di domande alla mia collega ho anche consultato da cima a fondo tutto il sito web del circolo degli amici alla ricerca di tutto quello che potevo trovare poi ho chiesto di fare l'introduzione e così sono andata a casa di una guida di comunità lo stesso giorno avevo appuntamento con un conoscente e ci ho messo circa 15-20 minuti per raggiungere in bicicletta il luogo dell'incontro mentre pedalavo sulla mia bici mi sono resa conto che potevo farlo normalmente ero totalmente piena di energia potevo andare in bici al mio ritmo normale e sono arrivata a destinazione in 20 minuti l'ho trovato che parlava al telefono così ho avuto il tempo di ascoltarmi interiormente e di notare che il fiato corto era completamente scomparso è pienamente appagata dell'esperienza di poter andare così facilmente in bicicletta due giorni dopo, la domenica ho pensato di andare fino ai campi da beach volley dove si allenava la mia squadra ho pensato che se il tragitto in bici fosse andato bene avrei potuto giocare uno o due set il tragitto andò a meraviglia ci arrivai bene e così giocai il primo set fu faticoso allora feci una piccola pausa e il mio corpo si rigenerò in pochissimo tempo tanto che potei giocare altri due set quello stesso giorno molto più di quanto avrei pensato all'inizio ero felice di questo e mi sentivo così fortunata di poter fare all'improvviso di nuovo tutto poter fare sport poter camminare normalmente ero così allegra e felice dentro di me che persino i miei familiari mi hanno detto caspita Ramona sei davvero arraggiante e mi sentivo veramente così ero tanto felice sì, come se fosse iniziata una nuova vita dopo circa 5 mesi di malattia mi è stato consentito di tornare a poco a poco a lavorare a tempo pieno ora lavoro di nuovo 40 ore alla settimana faccio sport da 4 a 5 volte alla settimana posso fare tutto ciò che voglio a distanza di un anno sono ancora davvero, davvero felice non è finita e sono molto grata di aver conosciuto il circolo degli amici di Bruno Gröning di aver appreso l'insegnamento di Bruno Gröning grazie a tutti